Io penso che Waste Reuse sia un progetto importante per il nostro territorio, per l'Italia, in quanto il recupero, il riuso dei rifiuti agricoli, la loro trasformazione da rifiuto a risorsa sia un importante passo avanti per creare, costruire quel concetto di economia circolare così importante per ridurre l'impatto ambientale delle attività agricole e soprattutto per salvaguardare la qualità, la sanità del suolo e delle produzioni. I risultati di questo progetto potranno essere sfruttati per due grandi settori molto importanti per questa area. Il settore delle produzioni orticole, quindi pomodoro, cavoli, zucca e altre specie da orto, lattughe, basilico coltivate a terra dove quindi è importante poter avere un suolo di ricerca, sano, ricco di sostanza organica per la produzione e lo sviluppo delle nostre colture. Ma vi è anche un secondo settore molto importante che è la produzione delle piante aromatiche e ornamentali in base. In questo settore l'uso di compost anche per i florodivaismi, quindi compost di qualità, è un importantissimo goal proprio per ridurre l'uso di torbe e il consumo comunque di risorse non difficilmente ricostruibile.